In questi posti qualunque, pieni di musica innocua, bisogna prendere atto che non ha più seguaci la rivoluzione. Ci sono notti bagnate, fatte di preliminari, di luci sui parabrezza, nella speranza che appaia un finale migliore. Ma non arriva nessuno che ci salverà, e anche gridare più forte non ci servirà. Dice, ascolta, capisce quello che vuole capire, e l'essenziale rimane comunque visibile agli occhi. Oh 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 io ti offro davvero il mio sangue, che tanto non c'è nessuno, che ci saverà, e anche gridare più forte, non ci servirà, e ci ascolta capisce, quello che vuole capire, e l'essenziale rimane comunque visibile agli occhi, se questa luna fosse di cristallo, le tirerei un pugno, solo per farla a pezzi, solo per dimostrarti, che se c'è o non c'è, l'essenziale rimane comunque visibile agli occhi, che se c'è o non c'è, l'essenziale rimane comunque visibile agli occhi, che se c'è o non c'è, l'essenziale rimane comunque visibile agli occhi.